La Commissione ha bisogno di tempo per preparare questo rapporto. È un rapporto che riguarda non solo il price cap, ma riguarda un po' tutte le misure che sono necessarie per moderare l'aumento dei prezzi dell'energia. E riguarderà anche una possibile eventuale riforma del mercato dell'energia elettrica. Come voi sapete, oggi l'energia elettrica è prodotta in parte attraverso il gas e in parte con le rinnovabili. E però, non importa quale sia la sua fonte di produzione, tutta l'energia viene venduta al prezzo del gas. Cioè al prezzo più alto della componente di produzione. Naturalmente questo è quello che ha portato al fatto che le bollette sono cresciute così tanto. Ovviamente ha portato anche l'aumento del prezzo del gas, ma quest'altra componente è esclusivamente dovuta a come il mercato dell'energia è stato disegnato anni fa. Ah ecco, no, guardi, questo è presto per dirlo. Il rapporto della Commissione serve proprio a questo, a individuare che tipo di tetto al prezzo del gas ci vuole. E naturalmente non può essere quello che si sta facendo in altri paesi, dove gli importatori comprano il gas al prezzo di mercato, ma viene poi trasferito ai consumatori a un prezzo più basso e gli importatori vengono risarciti. Questo sistema, che sostanzialmente sussidia il prezzo del gas al dettaglio, e non si può fare nel caso nostro, nel caso di quasi tutti i paesi, perché la spesa necessaria per farlo è enorme, noi facciamo un'altra cosa. Aiutiamo coloro che devono pagare la bolletta attraverso una riduzione degli importi in bolletta. Ma non funziona neanche in questi paesi, perché quello che stiamo vedendo è che, grazie all'interconnessione di tutte le reti in Europa, quello che stiamo vedendo è che questo governo, di cui non voglio fare il nome evidentemente, permette agli importatori di comprare a prezzo di mercato. Sussidia e il prezzo che pagano i consumatori è più basso. Cosa succede? Succede che siccome le reti sono interconnesse, sono gli altri paesi che vengono a comprare energia dove costa di meno, grazie al sussidio del governo di quel paese. Quindi forse non è la strada giusta.